Bisogna risolvere il problema, ho avuto notizia di questo, ne stiamo parlando, ne riparlerò anche venerdì, ma ne ho già parlato col Ministro e si cercherà anche qui di trovare una soluzione. Però, ripeto, queste sono questioni nazionali di governo che non seguiamo noi. La questione sarà affrontata entro la settimana con lo stesso Ministro allo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, del resto in ballo c'è una fetta importante proprio dello sviluppo economico delle imprese venete, sullo sfondo la bocciatura da parte di Governo ed Europa di Neural, progetto cardine del Competence Center di Padova, realtà che mette insieme le università e le imprese venete sui temi dell'innovazione. Con il finanziamento richiesto e atteso da 6 milioni di euro, si dovevano affrontare le sfide connesse alla blockchain e all'intelligenza artificiale, tutto messo in discussione con il superamento in graduatoria di altri progetti presentati da altre regioni come la Basilicata, inaccettabile per Union Camere del Veneto e il suo presidente Mario Pozza. Ma il governo Zaia chiederà di accelerare anche su un ulteriore fronte quello della perdurante siccità. È un tema organico, ci vuole un piano nazionale, visto considerato che questa tropicalizzazione dei territori, questo cambiamento climatico che è repentino, ci porta a dire che non è più un fatto eccezionale. Quindi a fatti che ormai sono ordinari bisogna rispondere con norme che gestiscano queste fasi. All'orizzonte l'election day del 12 giugno con 86 comuni veneti al voto e le sfide cardine di Padova, Verona, Belluno, qui Zaia si rivolge agli elettori. Votate per chi volete ma andate a votare. Perché lo dico? Perché è fondamentale che il Veneto ancora una volta abbia una grande affluenza alle urne e dia questo messaggio segnale di civiltà. Abbiamo delle date che non sono il massimo della vita, uso questi termini per non usarne di peggiori. 12 giugno e finisce lì per chi non ha il ballottaggio, 26 giugno per chi ha il ballottaggio. Significa che in piena stagione estiva tu vai a votare, cosa rara. Sacrificio ai cittadini di chiedere che nei loro comuni dove si va il voto si vada a votare, visto considerato che fra l'altro si potrà votare solo la domenica 12 giugno o eventualmente il 26 ma per il ballottaggio. Grazie a tutti.